Ciao e buon basket a tutti da noi di In The Paint, puntata del venerdì, partiamo subito con il basket già giocato, ovvero con le Coppe Europee. In Eurolega, Limpia Milano vince in rimonta sulla Svel-Ville Urban grazie ad una rimonta addirittura dal meno 15, spinta soprattutto da Billy Baron. Per i padroni di casa ci sono 18 punti con 4 assist di Nando De Colo che però perde anche 6 palloni, nonostante il 19 di valutazione non è bastato il francese a far vincere la squadra di Ville Urban, mentre per l'Olimpia abbiamo una gran partita di Billy Baron, 18 punti per lui con 4 su 4 dalla lunga distanza. Importante anche la prestazione di Nicolo Melli, 16 punti per lui e 4 rimbalzi. Importantissima anche quella di Kyle Ains che nonostante i soli 8 punti e 6 rimbalzi si rende protagonista di azioni anche spettacolari come la stoppata su Mustafa Fall, il giocatore più alto del campionato, della competizione con i suoi 223 cm. Kyle Ains, nonostante i giochi centro, è appena 1,98 m. Buone anche le prestazioni di Tonut, 8 punti con 3 su 3 da 2 e di Devon Hall, nonostante i soli 4 punti l'uno su 6 dal al tiro da 2. Andiamo invece a parlare di chi c'è stato solamente per dovere di firma ed è Shannon Shields che però ha riassaggiato il campo. In Basketball Champions League invece sconfitta per la Dinamo Sassari contro l'unica Hamalaga, partita che è stata dominata all'inizio dalla formazione isolana, un primo quarto importante da 23 a 19. Tuttavia gli andalusi escono alla distanza con un secondo quarto da 28 a 18 e con la grande spinta di Tyler Kalinowski, 17 punti per lui con 7 su 11 dal campo, con David Kravic 9 su 13 dal campo, 19 punti e 7 rimbalzi per lui. Importante anche la prestazione di Jedovic, 9 punti per lui e più 20 di plus minus per la Dinamo. Invece non basta la prestazione sopra le righe di CINANUONUACU, 20 punti e 8 rimbalzi per lui per 27 di valutazione, né quella di EIMANTAS Benjus, 18 punti con 4 su 8 dal campo, 3 su 5 dalla lunga distanza. Per la Dinamo tanti i dubbi visto anche il poco apporto che hanno portato Jamal Jones e Chris Dow, 9 punti per Jones e 5 appena per Chris Dow, due americani che portano appena 14 punti al referto. Si è la vittoria invece in Basketball Champions League è quella dell'Una Hotels Reggio Emilia che spugna il parquet del Telecom Basket Bon per 88 a 84 con un quarto quarto decisivo da parte degli uomini di Max Menetti. Miglior realizzatore Cassius Robertson con 19 punti ma ancora una volta grande prestazione di Andrea Cinciarini, doppia doppia da 10 punti e 10 assist per lui. Buona anche la presenza di Michele Vitali, 17 punti per l'ex Humana Reyer Venezia sotto le plance. Bene Netra Oivers con 14 punti e 6 rimbalzi. Andiamo invece a parlare di campionato perché il campionato offre una giornata davvero interessante. Si comincia con il derby Lombardo, il secondo consecutivo per la Germani Brescia che ospita la Pallacanestro Barese, Open Job Metis Barese. Si andrà invece avanti sempre sabato con la sfida tra Carpegna, Prociutto Pesaro e Humana Reyer Venezia alle ore 21. La domenica invece alle 16 primo big match casalingo per la Givova Scafati che affronterà l'Emporio Armani Milano. Alle 17.35 invece sarà la volta di uno Otex Reggio Emilia Bertram Tortona. Alle 18 invece in campo scenderanno Dolomiti Energia Trentino, Nutribullet, Treviso Basket. La Banco di Sardegna Sassari, la Dinamo dopo la delusione europea affronterà la Tezenis Verona alle ore 19. Alle 19.30 invece al Palapentassuia andrà in scena il derby del sud tra Epi Casaprinisi e Gevi Napoli. La giornata si concluderà con la sfida tra Virtus Segafredo Bologna e pallacanestro Trieste. Andiamo a vedere le ultime partita per partita. Cominciamo dal derby Lombardo dove la Germani Brescia al completo affronterà la Open Job Metis Barese in casa Brescia che affronta il secondo derby regionale consecutivo. Ha parlato l'assistente di coach Magro Cotelli che ha dichiarato occhio a Varese che si affida parecchio al tiro pesante e servirà il giusto approccio per contenerne il dinamismo. Puntano addirittura ai 40 tiri dall'arco a partita. In casa Biancorossa invece sarà della partita Markel Brown a cui è stata ridotta la squalifica da due giornate ad una sola dopo essergli stata combinata per i fatti avvenuti nel finale della sfida vinta contro la Dinamo Sassari. Come detto la squalifica viene automaticamente commutata in ammenda per il ricorso parzialmente accolto dalla FIP. Ha parlato poi Jaron Johnson migliore in campo contro Sassari. Dobbiamo avere dichiarato lo stesso approccio anche in trasferta. Per Pesaro Venezia l'altra partita del sabato i pesaresi hanno presentato le maglie bianca e giallo ocra della stagione 2022-2023. Si era già vista quella rossa. Sono attesi i pesaresi dal primo scoglio del campionato dopo la larga vittoria di Trieste. Moretti ha dichiarato la squadra avviene prima di tutto. Voglio continuare a crescere. Ha parlato anche Tote che ha dichiarato giocare a Pesaro. Per me è sempre speciale. Il grande ex però sarà Valerio Mazzola lo scorso anno in maglia Reier. Quattro stagioni in oro granata per lui. Sarà una grande emozione giocare contro Venezia. Le sue parole in casa Reier invece ancora assente Moraschini per la nota vicenda della squalifica. Tornerà tra due settimane. De Raffaele però non si fida della Carpegna Prociutto Pesaro. Ha un gruppo italiano di livello. Bisognerà fare attenzione ha dichiarato il coach oro granata. Tra i lagunari ha parlato anche Derek Willis migliore in campo nella giornata ad esordio contro Scafati. Già sabato saremo più continui in difesa. La direzione che stiamo prendendo è quella giusta. Scafati che invece ospita al Palabarbuto. L'Olimpia a Milano Palabarbuto che sembra che dovrà riempirsi in gran parte di tifosi giallo-blu. Sono partiti però i lavori per il Palamangano. Lavori che si basano su una convenzione firmata da società e da Givova con il Comune che vedrà le spese per l'adeguamento dell'impianto di Via della Gloria sostenute inizialmente dal club e dallo sponsor per poi essere restituite mediante compensazione con i canoni d'affitto. Tutti a disposizione di Alessandro Rossi i giocatori per la gara di domenica. Come detto si prevede una grande affluenza. Archiviata invece l'Eurolega Milano potrebbe schierare in campo Shannon Shields dopo la presenza pro forma in quel di Lione dove ha solo osservato la rimonta dei compagni spinta da Willi Baron. Altra partita interessante della giornata è quella tra Luna Hotels Reggio Emilia e la Bertram Tortona. Olisevicius sì o no? Questo è il dilemma di coach Max Menetti. Il fromboliere lituano è entrato per la prima volta a referto nella gara di Bonn vinta dai Biancorossi. Tuttavia non ha disputato nemmeno un secondo di gara. Da comprendere quindi quali saranno in merito le scelte del coach. Tortona che invece ha ancora il dubbio GP Masiura. L'esterno bianconero però potrebbe essere della partita dopo aver mancato per precauzione l'esordio stagionale contro Trento. Il proprio di Trento parliamo perché la Dolomiti Energia Trentino affronterà la Nutribullet Treviso. Ancora out Matteo Spagnolo. Chiavi della squadra affilate al solito flaccadori. Trento si prepara la gara contro Treviso con un occhio anche all'esordio in Euro Cup che comincerà la prossima settimana. In casa Treviso invece tutti a disposizione di Marcello Nicola a suonare la carica è stato Mike Michael Jantunen. Il finlandese ha dichiarato ci siamo guardati allo specchio dobbiamo imparare dalle sconfitte e guardare avanti. In archivio quindi il pessimo esordio contro Luna Hotels Reggio Emilia. Tra Sassari e Verona sarà sfida davvero interessante. Al pala Serra di Migni forte la delusione per l'esordio in Coppa della Dinamo apparsa troppo fragile al cospetto di Managa ed ancora intenta a risolvere il doppio rebus Chris Dow Jamal Jones che sono i due giocatori più criticati di questo inizio di stagione. Recuperati Kruslin e Gentile Bucchi avrà a disposizione quindi una rotazione ben più ampia delle scorse uscite. Alle stelle invece per i gialloblu che hanno vinto la partita d'esordio dopo un overtime contro Brindisi. 197 per la gara di domenica dovrebbe essere più vicino alla sua miglior versione. Wayne Selden già dominatore della sfida contro i Salentini nonostante non fosse completamente ristabilito dal suo infortunio. Proprio da Brindisi passa la seconda analisi della partita anzi la successiva. Brindisi che ospita Napoli nella sfida di domenica alle 19.30 al pala Penta Stuglia. Ancora dubbi per Frank Vitucci relativi a Dikembe Dixon. La quiete bianco blu però ha subito una dura sferzata dal polemico tweet poi ritirato di De'Angelo Harrison che lamentava ritardi nei pagamenti secondo quanto abbiamo potuto raccogliere da varie fonti. Il club avrebbe optato per una riduzione interna della questione. Attenzione però a costruire situazioni che non sono confermate perché potrebbe essere sicuramente una questione di mera burocrazia. Tuttavia non è una bella cosa trovarsi un messaggio del genere in mezzo alla settimana dopo tra l'altro un inizio di campionato che ha visto l'Epicasa perdere dopo un overtime. Napoli che invece si affaccia al pala Penta Stuglia con il forte dubbio legato alla presenza di Jordan Howard. Il play portoricano che aveva abbandonato a partita in corso la squadra per un risentimento muscolare alla coscia sinistra sta facendo di tutto per ristabilirsi dall'infortunio accusato proprio nella gara persa contro le Vuniere. La decisione sul suo impiego verrà presa con grande probabilità all'ultimo momento da coach Buscaglia. A disposizione invece Capitan Uglietti in panchina per onore di firma nella gara d'esordio. Chiudiamo proprio con la Virtus Bologna che dopo la vittoria di Napoli ospita la palla canestro trieste già ruolabile per esordio in Eurolega. Mohamedou Jaite ancora pazienza per Cenghelia e Teodosic con il Giorgia che però starebbe accelerando i tempi per un suo ritorno che potrebbe avvenire già a fine mese. Musi lunghissimi invece in casa Trieste dopo la pesante sconfitta interna con Pesaro. Il presidente Mario Ghiacci però ha invitato la piazza alla calma dicendo non possiamo essere così brutti. Vi ringraziamo di averci seguito e vi diamo appuntamento adesso allo speciale Epic Casa Brindisi, Jamie Napoli e con In The Paint generalista. Ci vediamo lunedì sempre qui, sempre sul nostro parquet. Buon basket e ciao a tutti. Ciao a tutti.